Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Il gesto del presentatore Campano, che ha deciso di rinunciare alla conduzione dello show comico di Rai 2 Stefano De Martino, dopo aver trascorso una dolce Pasqua assieme a Belen Rodriguez, non si è scordato che nelle prossime ore decollerà la nuova stagione di Made in Sud Show comico di Rai 2 che lo ha visto protagonista alla conduzione per due edizioni consecutive Anche quest'anno i vertici di Viale Mazzini avevano pensato a lui, che però ha preferito l'impegno in qualità di giudice ad amici di Maria De Filippi Così i dirigenti del servizio pubblico hanno dovuto trovare un sostituto, anzi due La trasmissione è stata affidata a Clementino e Lorella Boccia che lunedì 18 aprile, in prime time, apriranno le danze E Stefano? Prova un pizzico di gelosia nel vedere lo show in mano ad altri personaggi? Assolutamente no Anzi il campano, poco prima della partenza del programma, si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti dei nuovi conduttori, dedicandogli una stories Instagram e invitando il pubblico a seguire gli sketch Made in Sud al Via.Stefano e Belen, Pasqua insieme e famiglia allargata De Martino e la modella argentina, di recente, hanno per l'ennesima volta recuperato gli intrecci d'amore che sembravo perduti per sempre Dopo che la sudamericana chiuso con Antonino Spinaldese, con il giovane hairstylista avuta Luna Marie, nata lo scorso luglio, si è consumato il clamoroso ritorno di fiamma Il campano e la Rodriguez stanno cercando di non esporsi troppo a livello mediatico, seppur qualcosa trape la cadenza settimanale Ad esempio si sa che il giorno di Pasqua lo hanno trascorso assieme, lontani dal caos cittadino milanese, in una località immersa nel verde, affittando una villetta con piscina e a pochi passi dal mare La location scelta è stata l'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, un'oasi naturale che ha sede nel parco regionale del Delta del Po e anche una delle mete turistiche più esclusive dell'Adriatico Con loro c'erano Santiago, il figlio che hanno avuto assieme, e Luna Marie, frutto d'amore che la modella ha appunto avuto da Antonino Spinaldese Profumo di famiglia allargata. Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao